Grazie Tengo a ringraziare la famiglia Zeppi che ha messo a disposizione i locali rinnovati completamente Il senso di mettere qui l'ufficio della polizia locale è quello di provare a ridare normalità ad una zona in cui effettivamente ci sono stati degli eventi che non sono consoni con la nostra città e quindi ovviamente più persone vengono in questo ufficio e quindi si crea un via vai di persone che svolgono una quotidianità normale e più si allontanano le frequentazioni non belle Abbiamo anche nell'ambito del progetto On The Road installato due telecamere che non sono ancora accese lo sottolineo per un tema tecnico e quindi a breve arriverà anche l'allaccio della rete però sono già state posizionate e sicuramente daranno un'ottima visuale Credo che sia un buon inizio, poi vedremo come si svolgeranno i lavori Io però sono molto contenta, grata alla famiglia Zeppi e anche alla polizia locale che ha veramente lavorato per riuscire ad essere qui oggi ad inaugurare questo luogo che sicuramente comunque dà un senso di sicurezza in più a chi abita vicino